si ma non solo è anche un tipo di barca che non dovrebbe aver confronto beh è più grossa della tua sarà il doppio è una prova è una prova si ma lo sto ancora provando se la faccenda lì deve toglierlo 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 se la faccenda lì deve giocare a a a Grazie a tutti.